Ciao ragazzi, eccomi qua per un nuovo video e oggi per rispondere a una delle domande che mi state facendo di più nell'ultimo periodo, soprattutto sotto i miei video outfit, ma anche su Facebook, su Youtube per messaggio privato, ovvero dove è possibile reperire e acquistare i prezzi dei gioielli che mi vedete indossare e di cui vi parlo molto spesso in quest'ultimo periodo. Si tratta di un marchio di gioielli, Emanuela Leocadi Bijoux, di cui sto indossando in vari video perché collaboro con questo marchio, alcune delle creazioni della collezione Primavera Estate 2014, come ad esempio la collana che mi vedete indossare oggi di questo bellissimo verde smeraldo che è uno dei miei pezzi preferiti della collezione. Volevo quindi parlarvene perché sono dei gioielli che a me piacciono tantissimo, mi hanno veramente colpito per la qualità dei prodotti utilizzati e per la cura nei dettagli. Tutto come dice il nome del marchio stesso, Emanuela Leocadi Bijoux, si tratta di bigiotteria, quindi non di gioielli in oro o comunque metalli preziosi, ma si tratta di bigiotteria di alta qualità. Vengono infatti utilizzate delle pietre naturali, ad esempio in questo caso questa che è una bellissima agata, tutte queste pietre che vedete sono delle agate, ma anche altre pietre come ad esempio la madrepora, e che sono delle pietre naturali, per questo sono differenti l'une dalle altre e regalano questa caratteristica di avere, di indossare un pezzo completamente unico perché non ci sarà mai un pezzo uguale all'altro, saranno simili ma non uguali. Sono dei gioielli che a me personalmente piacciono veramente tanto, nonostante siano molto vistosi e appariscenti alcuni, come ad esempio la collana che indosso, ma nella collezione ci sono anche altri pezzi un pochino più sobri diciamo, comunque sono anche molto molto leggeri. La fondatrice del marchio, ma anche la designer, è una persona splendida che ho avuto modo di conoscere in diversi meeting, che mi ha fatto scoprire diciamo la nuova collezione, ma mi ha anche trasmesso la sua passione per questo mondo, per il made in Italy. Infatti tutti questi gioielli sono realizzati interamente a mano in Italia, ed è questo uno dei punti di forza sicuramente del marchio. Proprio per questo, per la originalità dei materiali utilizzati, ma anche proprio per i modelli che Emanuela crea, ho deciso di collaborare con il marchio realizzando una serie di video outfit, vi lascio i link sotto questo video nel caso ve ne siate persi qualcuno, nel caso siate delle nuove iscritte e non le abbiate viste nel corso degli ultimi mesi. Come vi dicevo, i materiali utilizzati sono tra i più sbariati, ma colpiscono soprattutto le pietre naturali, come l'agata, l'alcantara, la medropora. Ce ne sono veramente tanti e la particolarità, l'originalità è data anche dal fatto proprio dell'utilizzo di queste pietre, che sono sicuramente simili, ma molto diverse comunque l'una dall'altra, per le varie venature che sono presenti al loro interno e per la forma, la dimensione. Quindi non esisterà mai un gioiello di Emanuela Leocadi identico ad un altro e quindi sarà originale ed esclusivo, quindi quasi fatto su misura per voi. Tutti i materiali sono nickel free e utilizza addirittura anche ceramica, ci sono dei bellissimi orecchini presenti sul sito e-commerce che ho visto che sono meravigliosi, realizzati in ceramica tra i miei preferiti color rosa antico, molto eleganti e utilizza anche la filigrana e i cordoncini delle collane e collie sono in camoscio. Quindi sono molto morbide e per questo le collane riescono anche ad essere molto leggere, nonostante l'utilizzo di pietre naturali che si sa di per sé sono abbastanza pesanti. Uno dei punti di forza di questo marchio, oltre al Made in Italy, sono il fatto che questi gioielli sono unici ed inimitabili, sia per i prodotti utilizzati ma anche per i modelli creati, che potete trovare sul sito e-commerce, vi lascio anche in questo caso il link diretto al sito, dove vedrete tutti i gioielli e le creazioni che compongono la collezione Emanuela Leocari Bijoux, quindi dalle collane molto lunghe alle collane giro-collo-coglie che forse sono le mie preferite, orecchini, anelli, cinture e una cosa molto carina è che alcune delle collane lunghe, quasi tutte, possono essere trasformate in cinture. Ci sono anche gioielli in resina che vanno molto di moda quest'anno, molto colorati, allegri, sicuramente adatti al periodo estivo che mi sono piaciuti molto e realizza anche portachiavi come ad esempio questo che a me piace tantissimo ed è questo cuore sempre fatto in agata, molto molto bello, che è anche un charms gioiello da appendere alle vostre borse. Ci tenevo tantissimo a girare questo video proprio per rispondere un pochino in generale a tutte voi e alle domande che mi avete posto. Sul sito e-commerce provate tutti i prezzi, quindi è inutile che io vi sia ad elencarveli, sono comunque prezzi sicuramente molto bassi, tra l'altro in questo periodo c'è anche la spedizione gratuita per tutto il mese di giugno e inserendo il codice sconto Glossy Debbie, quindi il nome del mio canale YouTube, il mio nickname, tutto maiuscolo, riceverete un ulteriore sconto fino al 31 di luglio. Quindi sicuramente spero che questo vi possa far piacere e spero che possa essere gradito a chi tra voi vorrà acquistare, ma anche soltanto visitare il sito per vedere le bellissime creazioni. Quindi non mi resta che lasciarvi al sito internet, è qualche foto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!